ragazzi stanno bullizzando molto in freddy hink non so perché lanciagli un missile immagino della che avete contro di lui ragazzi dobbiamo fare qualcosa contro di loro si per sennò ricchi io ho cercato di far di capire che non serve a niente insultare una persona se poi e poi non serve a nulla a che serve io non capisco lancia i trenze io non so perché lo hanno bullizzato che ha fatto no ora me lo dovete spiegare sapete spiegarlo chi me lo spiega adesso si intanto per intanto gli altri mi stanno bullizzando incredibile cioè ragazzi segnalateli subito non è possibile non possono bullizzare una persona a caso senza motivo tanto rende la vita della persona solo più triste ragazzi cercate di fargli cancellare questo video perché non serve a nulla non c'entra a che serve